Minacciate, aggredite, spaventate, anzi terrorizzate. Così si sentono le vittime di alcuni episodi di violenza avvenuti in Navierigopiano, nel complesso delle case Ater, dove, peraltro, i problemi non mancano. A raccogliere queste voci è Domenico Pettinari. Oggi stiamo denunciando delle minacce di morte molto gravi nei confronti di alcuni residenti, da parte di un altro residente, soggetto pericolosissimo, a mio avviso. Queste persone sono state aggredite con un coltello alla gola, puntato alla gola, riprese dalle telecamere, hanno sempre denunciato tutto all'autorità giudiziaria. Un'altra signora che sta anche qui presente è stata picchiata, malmenata, da sempre e solo il soggetto pericoloso. A un altro ancora questa persona sarebbe entrata con un coltello dentro casa, puntando un coltello. Sono tutti qui, tutte testimonianze, tutte persone pericolose. Quindi capite il dramma che si vive in questo quartiere. Dove ci sono ancora occupanti abusivi, spacciatori di droga, oltre 25 case vuote lasciate in abbandono, che potrebbero essere assegnate agli oltre 700 cittadini che stanno aspettando in graduatorio una casa popolare. Quelle case vuote qui devono essere subito assegnate. Assegnare brava gente, agenda onesta, significherebbe risollevare il tessuto sociale di questo posto. E poi attenzione, dopo tante battaglie siamo riusciti a fare mettere un provvedimento di decadenza nei confronti di un latitante, che era assegnatario di una casa popolare, ma questo provvedimento non viene ancora eseguito. Quindi sta ancora nella disponibilità di questa persona. E poi c'è tanta immondizia. Qui gettono immondizia dai balconi. Immaginate che dal baccone gettono immondizia sulla strada, sulla corte comune, e qui non si riesce più a vivere. Quindi un appello che noi facciamo, che le signore fanno al prefetto, al questore, in dato di mettere in sicurezza queste persone, perché hanno paura, di allontanare immediatamente quel soggetto pericoloso. Quella persona deve essere raggiunta da un provvedimento d'urgenza che la sposta da questo posto, dove è diventato pericolosissimo, e mette in sicurezza le persone. Questo va fatto immediatamente.